Appassionati d'opera, in visione, in ascolto, ben ritrovati. E' ben ritrovati con quello che normalmente è il direttore artistico del nostro teatro, che continua a esserlo, ma in questo caso invece è nella veste di direttore d'orchestra di questa produzione di Madame Butterfly, cioè Giuseppe Acquaviva, diciamo tutto, al secolo Giuseppe Acquaviva. Adesso, come prima osservazione, perché ho appena finito di sentire le prove, fra l'altro grazie perché lui ha appena finito di dirigerle, io bene o male ero seduto in platea, lui invece si agitava con una bacchetta in mano. La cosa più misteriosa è come può essere stato un insuccesso clamoroso quel 17 febbraio del 1904, perché è musica talmente bella, talmente attuale ancora adesso, che veramente è uno dei grandi misteri dell'opera. Beh, c'è da dire però che la prima edizione, l'edizione di Milano, qualche pecca ce l'aveva. Al di là che il fiasco è stato evidentemente anche un po' indotto, un po' pilotato, però se noi vediamo la prima versione, insomma ci sono anche, beh, è tutta un'altra opera anche. Sì, c'erano delle lungaggini forse che effettivamente avevano... Oltretutto sembrano composte giusto per essere poi tagliate, perché poi tagliandole non... Non ne so, assolutamente, certo. Non torna tutto, certo. Da lì poi c'è stata la versione di Brescia, che oltretutto abbiamo fatto qui nel 2014, che già aveva, insomma, migliorato la situazione, dopo vabbè... E fu anche un trionfo, fra l'altro. E fu, consacrò l'opera al grande repertorio, tant'è che poi è una delle... Continua a essere una delle opere più rappresentate. Certo, la prima versione era anche una versione molto dura, perché tutta la parte del primo atto, del matrimonio... E questo si conserva anche in Brescia e ha una lettura razzista... Un spirito molto colonialista, no? Sì, assolutamente, anche troppo, tant'è che insomma ci furono anche dei problemi diplomatici sulla Butterfly. Il famoso muso 1, muso 2, muso 3, ti chiamerò invece. Sì, sì, sì. Poi anche la figura di Pinkerton, già nella versione di Brescia, con l'aggiunta dell'aria, perché nella prima non c'è, anzi, nella prima, quando rientra Pinkerton alla casa di Ciocio San, Sì, gli dispiace un po', però liquida la cosa con beh, mi passerà. Ah, ecco, ecco. Mentre in qualche modo, Addio Fiorito Asile ne fa una sorta di retenzione del personaggio, perché comunque gli fa le ultime parole prima del Butterfly fuori scena e Sonville, insomma c'è una sorta di... Qui diventa in realtà forse il personaggio più superficiale che è sgradevole, mentre Pinkerton era effettivamente un personaggio molto sgradevole. Assolutamente, assolutamente, anche dice delle cose contro i giapponesi, specialmente nella prima, ma anche nella seconda versione, paragonandoli agli animali. Sì, sì, sì. Insomma è stato... Decisamente politically incorrect, si direbbe oggi molto proprio... Assolutamente. Un po' scorretta la cosa. Assolutamente. E d'altra parte, infatti in fondo Sharpless faceva la contraltare, bilanciava, è quello con un po' più di buonsenso e quello sembrerebbe... Cioè anche tuttora lo è... Sì, 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 beh, insomma è il console, quindi è l'istituzione... È raramente però un'opera, lo dicevamo con il regista l'altro giorno, con Lorenzo Amato, più declinata al femminile di questa. In realtà in scena non c'è un cattivo, cioè lo Scarpia di... Io ne ho in mente perché l'abbiamo appena visto, no? Lo Scarpia di Tosca non c'è. Cioè al massimo c'è Goro che è un po' lascivo ma non è un villain di questi. È proprio un dramma personale tutto di Butterfly che fra l'altro non dà dal punto di vista soprattutto in questa versione, cosa era la sesta, la settima, non lo so, quella di Parigi la chiamano, non esige dallo spettatore nessuno sforzo, no? Si segue veramente, che ne so, in Manon uno si deve ricostruire, manca un sacco di pezzi di sceneggiatura, ma nella Tosca stessa non si sa quando si sono riconciliati tra primo e secondo atto, qui in fondo anche se ci sono, l'intervallo passano tre anni, è tutto che si segue molto bene, i Licheggiacosa hanno proprio messo... Beh, intanto ricordiamo che il secondo atto è quello che viene erroneamente chiamato il terzo, ma sarebbe la seconda parte del secondo perché comunque inizialmente è stato concepito senza soluzioni di continuità, come si dice, è il dramma di Velasco, in musica perché il primo atto in realtà è stato inventato e la gestazione di questo, al lato del dramma di Velasco è stato un po' anche quello che ha ritardato i lavori, perché insomma non si sono subito trovati d'accordo sulla drammaturgia, ricordo che nel Dream Team come tu spesso dici c'erano dei compiti ben precisi, Illica era il drammaturgo più che lo sceneggiatore più che il poeta, mentre il versificatore era Giacosa, però Giacosa si era per esempio impuntato su un atto americano, cioè quello del consolato, quindi questo è stato anche oggetto di ritardo, poi accusavano Giacosa, c'è nell'epistolario Puccini che lo chiamava il Buddha, lo chiamava il Buddha stitico perché non gli forniva il materiale, insomma ci sono stati quattro anni di lavoro e di ripensamenti continui e non solo, perché non è finita lì, perché dopo la prima appunto di Milano tutti ci hanno rimesso mano sopra, a partire ovviamente da Puccini, però l'unità anche di tempo che dà il secondo e tra virgolette il terzo, certo è come dici tu, uno assiste al dramma così come lo ha visto Puccini tra l'altro a Londra. Ricordiamo che Puccini praticamente non sapesse una parola di inglese, cioè secondo lui quello che passava anche senza bisogno di capire le parole vuol dire che avrebbe funzionato in musica poi, avendo ragione, lui si è praticamente innamorato subito, anche se poi con i suoi librettisti ci si è rivolto un bel po' dopo, tant'è che c'è una lettera proprio di Illica un po' piccato perché dice beh, sanno tutti che stai pensando a Battelfry, pensi di non fare a meno di noi e Puccini che risponde no ma come abbiamo fatto due successi con Bohème e Tosca, però sono passati diversi mesi prima che Puccini si rivolgesse a Illica e Giacomo. Sì, c'è quel periodo in cui, la cosa bella, io pensavo l'altra volta proprio che in quest'epoca di mail noi non avremo la fortuna che abbiamo avendo di Puccini gli epistolari, questa serie di lettere che probabilmente andranno perse oppure possono essere modificate, mentre invece Puccini aveva una serie di sorelle dai nomi improbabilissimi a cui scriveva, per cui anche, perché con Illica e con Giacomo aveva rapporti formali, poi ogni tanto con Ramelle e Nitteti, queste sorelle dai nomi strani invece si scriveva e diceva la verità. Poi c'è stato anche l'incidente automobilistico che gli rallentò e lo fece, ahimè, gli fece sfumare il sogno d'amore con la famosa Corinna di Torino, per cui secondo me è particolarmente ispirato poi dalla parte femminile, secondo me anche per quello, perché questo è molto dalla parte delle donne diciamo, no? Butterfly è veramente vista, quella che si salva puramente. È un dramma, insomma il finale di una donna che appunto cede il figlio proprio per l'amore del figlio si autodistrugge alla fine, perché poi non è più niente, non è più una moglie, non è più una parente, non è più inserita in una società che appunto... È sradicata completamente, fa finta di essere americana in terra giapponese, ma è un delirio quasi. Sì, sì, l'unica cosa è farsi fuori alla maniera però dei giapponesi, anche perché appunto... Senti, parlando di musica invece, io adesso ero giù, fra l'altro qui ci sarà un solo intervallo come spesso succede, anche perché poi a teatro già l'opera è lunga, si perde tempo negli intervalli, quindi io dal punto di vista, approvo dal punto di vista della direzione artistica l'intervallo solo quasi sempre, perché non sempre è possibile. Il direttore artistico ha deciso. Il direttore artistico ha deciso così, vedi, beh, lo conosciamo. Allora, c'è un primo atto, poi secondo e terzo praticamente sono uniti e ero stupito perché si tende sempre il coro a bocca chiusa che dovrebbe chiudere giustamente il secondo atto oscura un po' quel bellissimo secondo me episodio sinfonico che apre il terzo atto che è quando si dice che a noi la sinfonia per gli italiani giustamente, noi vamo l'opera e gli altri la sinfonia, ma questo veramente è molto molto bello, è molto caratterizzato fra l'altro. Così, tende a passare inosservato secondo me. Il preludio? Il preludio del terzo atto, che io inviterei a sentirlo con attenzione a tutti quelli che lo ascolteranno. È bellissimo. È una musica straordinaria. In realtà inizialmente non c'era appunto un distacco tra il coro e l'inizio del terzo. Certo, è un, beh si dice tanto, non un omaggio ma comunque una strizzata d'occhio al Wagnerino. È post-varteliano, così, sì. Beh però poi all'inizio forse, ma poi prende invece... Però è interessante, io ho visto anche, avendo visto anche il manoscritto nel bunker della Ricordi, E' interessante capire perché tra la prima di Milano ma anche in altri punti c'è un ritorno sull'orchestrazione. E in particolare sul preludio, cioè tutti i contrapunti che ci sono nelle viole, tutte sotto tracce, sono posteriore, sono venute dopo. Ma ha ripensato l'orchestrazione. Ha anche ripensato sull'orchestrazione, quindi insomma ha avuto anche più coscienza di una... Adesso mi rendevo conto sentendola così astratto un po', no, proprio mi sono messo di buzzo buono a risentirlo mentre veniva eseguito dal vivo. E' estremamente moderno, cioè si capisce che siamo nel Novecento, mentre invece ovviamente Tosca eravamo nel Novecento per pochi giorni perché è stata tu. Qui invece è musica effettivamente più moderna, come poi ovviamente, dove andò tu non ne parliamo, ecco voglio dire come... Si capisce in Battlefield comunque che Puccini la musica del suo tempo la ascoltava. Decisamente, sì sì, poi influenze, non influenze. Poi filtrate dal genio che è, però insomma si sente che è inserito in un contesto assolutamente europeo. Sì sì sì, ma decisamente, come pure si sente la predisposizione al leitmotiv che ormai diventa a certi livelli quasi subliminale. Ogni tanto ci sono due battute che richiamano, per dire, il tema che forse è proprio il cardine di tutta l'opera che è Un bel di vedremo, viene eseguito la prima volta sotto forma di Un bel di vedremo. Poi c'è un richiamo veloce nel momento in cui... Quello è un colpo basso che tirano Puccini alla maniera sua perché tutta questa cosa triunfale, invece lei è dammi la mano, è crollata, la realtà è tutta diversa dalla fantasia e sotto c'è proprio il richiamo che solo la musica ti fa pensare a quello che dovrebbe essere. E così come succede con il coro a bocca chiusa, che è un richiamo poi del topos letterario, la lettera che quando viene letta dal console c'è già il tema del coro a bocca chiusa. Per cui tutto quel tema diventa una cosa per cui tu dici ecco, senti la musica e pensi al fatto che il console è nemmeno riuscito a dirle che insomma gioca al solito. Puccini gioca con note e sentimenti in una maniera assolutamente... Ne ha fatto una carriera di una certa... Ci ha campato sopra... Ci ha regalato dei gioielli perché poi alla fine le opere pucciniane insomma è difficile metterle in ordine, è molto difficile. Versi per gli altri sono veramente dei gioielli unici. Almeno da dopo le prime due diciamo, ecco le prime due sembrano iniziali forse. Beh sì però c'è anche i Nuge. Sì sì Nuge ci sono tutto, però diciamo che da Manon in poi effettivamente ci vuole il photo finish. Sì sì sì. Senti soddisfatto di come reagisce la nostra orchestra che ti conosce ovviamente qui. La nostra orchestra è straordinaria, ci sono delle... Si possono tirare fuori delle sonorità, è divertente, è appagante, insomma è veramente un piacere. Perché comunque sono straordinari, sono veramente straordinari. E beh questo è... Adesso non lo dico perché anzi probabilmente anche sarà l'ultima produzione che faccio qua, ma il lavorare con questa orchestra... Ora purtroppo il coro in Butterfly non ha una grande... Fa una cosa molto famosa. Per esempio sì, però ecco non è turandotto, ma l'orchestra qui ovviamente supera a se stessa. Prima, vabbè, quando avevi finito... Per fortuna. A microfoni spenti che eravamo ancora in sala, mi era venuta una riflessione che è un inno alla banalità, però considero assolutamente vera. Come in sala la musica, ma di Buccini, ma anche di tutti gli altri non si sente. Cioè la musica deve cogliere lo spostamento d'aria prodotto dalle voci e dagli strumenti. Non c'è sistema di riproduzione neanche il più costoso che può, ma nemmeno dare palli da idee. Dicevamo, ed è anche una fortuna perché se no saremo tutti a casa a fare altro. E invece a questo punto io ti direi, beh intanto a questo punto ti ringrazio per essere venuto. provato dalla cotanta direzione, perché in due o tre giorni stai provando tutti e due i cast, tra l'altro. Eh, ne prendiamo dalla generale, quindi insomma... Beh, domani neanche a dire domani ti riposi perché c'è la prima, domani è peggio. Ti chiederei una cosa, un autografo qui... Quando si dice... Poteva anche piovere, non poteva esserci la intervista. Sì, potrebbe andare peggio. Dove vuoi, io la metterei proprio sul sollevante lì. No, andiamo accanto. Eh beh, sei citato. E poi ti chiederei un'altra cortesia, veramente l'ultima... Guarda, dietro quella camera, intesa come macchina da presa... È una novità, sì, no, non è un numero verde, ma... Lì c'è chi ci sta ascoltando. Invitali a venire, dagli un buon motivo per venire a... Beh, intanto a Madame Butterfly si va a prescindere, perché è un'opera, un capolavoro, un'opera che contiene delle musiche... Che tutti conoscono, che ormai sono nel patrimonio genetico... Eh, di chi... di tutti, di tutti, anche dei non melomani. In particolare questa ha un allestimento meraviglioso, eh, firmato da Ezio Frigerio, con i costumi di Franca Squarciapino. Quindi si parla anche della storia... Premio Oscar. Premio Oscar. E si parla proprio della storia del teatro internazionale. Quindi vi aspettiamo assolutamente da domani, 14 di giugno, fino al 20, mi raccomando, numerosi, e spargete la voce, perché veramente sarà una bellissima edizione di Madame Butterfly. Ma hai convinto assolutamente. Vieni. Ci sarò, penso proprio di sì. Ho l'impressione di sì. Grazie ancora, Giuseppe. Grazie a voi. Grazie a voi.